Eccoci qua, bella a tutti dal vostro Gabomen, siamo tornati su FIFA 16, oggi ci facciamo un bel draft perché c'ho voglia di fare qualcosa di strano Allora, vediamo un po', 4-1-4-1, e questo mi potrebbe interessare, 4-5-1 pure non è male, 5-2-1-2-4-3-3-falso-9 Eh, questa è una bella scelta ragazzi, ma io me sa tanto che vado sul 4-5-1 offensivo perché mi sembra quello più spregiudicato di tutti Cominciamo, De Bruyne, Coutinho, Lamma, Ronaldo e Iniesta, ma che ce sto pure a pensare, Cristiano Ronaldo, Anna Mavanti, Müller, De Bruyne, Ozil, Di Maria e Silva Questa è una bella lotta, che cacchio, non lo so manco io che prende, anche perché con Ronaldo non è che fanno intesa Quindi qua devo andare un po' a casaccio, mi sa che prendo Ozil perché mi sembra quello migliore, anche se pure Di Maria, pure De Bruyne, non lo so che fa C'è penso 3 secondi, prendo lui, bene così, qua che possiamo prendere, ammazza il culo, non riesco a fare una squadra spagnola Borca Valero, Mamaev, Dembele, Guarin e Silva, non lo so sinceramente, mi sa che mi prendo Borca Valero perché comunque l'ho provato, so che è forte Andiamo avanti, Casorla, Coutinho, Rodriguez, Benarfa, Felipe, Anderson, io vado su Rodriguez perché comunque fa affinità con Ronaldo Attaccanti, ecco là, oh ce ne sta uno del campionato spagnolo, mi sa che prendo Aubameyang e va a fanculo allora Successivo, guarda che schifo, mannaggia la puttana, prendo Wolcott, taglie Andiamo sui terzini, Irola, Zabaleta, Debussy, Juanfran e Maicon, prendo Juanfran perché è del campionato spagnolo Mi sa tanto, te sì, perché gli altri non è che mi convincono molto Difensori centrali, porca puttana, che schifo, ma che è sta merda? Prendo Dedé, Dedé, Didi, Dodododudu, non lo so come si chiama Allora, Miranda, Concelli, Glick, Godin, dai, voglio Godin insieme a Godin Andiamo avanti, Gaia, Felipe, Luis, Gaia, che dite voi? Dai è così, portiere, vediamo che ce sta, guarda che roba qua Bofin, ma chi cazzo sono questi? Non ne conosco, ah, bizzarri conosco, l'unico che conosco, lo prendo solo perché lo conosco Andiamo avanti, guarda che roba Prendo Togno perché è spagnolo, solo per quello, così Mendy, Felipe, Luis, ma mi sa che me l'accatto però perché è spagnolo O meglio, gioca nel campionato spagnolo perché è brasiliano Danilo, dai, qua mi piacerebbe prendere Goulam e mi piacerebbe Kurzawa Però, giustamente, gioca nel Real, mi fa affinità Prendo lui Verratti Bellarabi con Oblian, Carnautovic, Coutinho Che, boh, mi sa che me conviene prendere Coutinho perché C'ho Osil e comunque insieme possono fare un po' di affinità come C.O.C Teixeira, Nani, Sanchez, De Bruyne, Alonso Ammazza il culo Che prendo qua? O De Bruyne o Sanchez, uno dei due, dai Mi sa tanto che prendo Sanchez perché è più veloce e ha più dribbling soprattutto Pedro, Hulk, Insigne e Neymar, dai, vado su Neymar, campionato spagnolo Poi, Iborra E... sì, prendo Iborra perché Serno non mi piace Pagliè sì, mi piacerebbe però, comunque sia È meglio quello Barclay, Bonaventura Mi sa che prendo lui, giusto perché, boh, perché è I.F Dai, è così Poi, Matip, Calu, Vela, Kai, Cedo e Arbeloa Su che cazzo vado qua? Io m'accatto Matip, va, che comunque dei difensori non ho trovato un cazzo di che A parte Codin William, Pedro, Evra, Martial, De Jong Io vado su William perché secondo me è il giocatore che può fare più a difensore Ci penso un attimo William, dai, su, che devo fare? Poi, allora, Di Maria, Oziacup, Mendy, Hulk e Carval Di Maria, dai, su, forza così Ammazza il culo Comunque vi è da ridere per fare l'affinità Bradley addirittura, guarda qua che roba E vabbè, ok, ne ho preso uno a casaccio Bradley perché me sta simpatico Colpo de genio Questa è la formazione che ho creato Vediamo che allenatore ce capita Ecco Che cazzo vi ho pure qua? Non lo so Uno a casaccio, dai Alla fine 84, comunque, De Forza Squadra non è male Una buona affinità De Squadra Una buona intesa su FIFA, si chiama intesa? Gioco contro Vuki Tosf E c'ha Ronaldo, e c'ha Benzema E c'ha Coutinho E c'ha William, e c'ha Iaia Turelli Mortacci sua, c'ha Pepe C'ha Ruffierra in porta E' una bella squadretta Vedo Ciordi Alba E vedo Varanna se non me sbavano E vaffanculo, allora Vediamo quello che riuscimo a fa' La regia del Gabone Subito ci porta un'azione di quelle esagerate Questo attacca l'Imortacci sua quanto core Eccolo Avanza Rientra Finta Lo chiudo per un attimo Poi recupera Mamma mia Chiudi tutto quanto Mannaggia la puttana Oddio, oddio Eccolo Ciò ho fatta Ho chiuso però questo Recupera il possesso della palla Se non mi imparo a spazzare più forte di me Ecco Perfetto Recuperata la palla Adesso passo An'azione per il Gabone Cristiano Ronaldo Ammazza quanto core su sta fascia Me ne vado Cerco il cross Mi sa che è un po' troppo lungo però Eh sì Vabbè Recupero la palla Cerco il tiro E calcio d'angolo Ci ho provato Che vedevo di Eccolo qua Dal calcio d'angolo Sor Cavalero Cerco la capoccia Che non arriva Mannaggia la miseria Recupero il possesso della palla Ancora così Godin Il passaggio è sbagliato Porca miseria Attenzione al contropiede Potrebbe essere veramente Una cosa di quelle catti Questo ma butta dentro Porca putta Oddio Oddio Ecco là Chiudi Chiudi tutto Mamma mia Per fortuna che togno Il mio portierone Esce e parla E questo mi pareggia subito È la madonna È la madonna È proprio il caso De dirlo Perché Mannaggia la miseria Guardate che apertura È arrivato con la cattiveria Ma ha fatto un gol De quelli Ma dosca mia Va bene così Allora uno pari Ma sul draft Tanto giocavo fenomeni Contro fenomeni Quindi è normale E mi sa che qua c'era fallo per me E mo me lo fischi però Ma hai rotto le scatole Bene Questo è fallo per me Io ce provo Con James Rodriguez Cerco subito il crossettone Mamma mia A momenti gli butto la palla in rete Ma non ce sono riuscito Se passa un'altra azione Perché io ce riprovo Rodriguez Ancora passaggi rapidi Aubameyang Come cazzo Se chiama Gol del 2 a 1 Ma è troppo forte Sto giocatore Ma tu guarda Che cosa mi ha combinato Passaggi rapidi È arrivato Ha tirato una mina Al portiere Ci ha provato in tutti i modi Non è riuscito A parare la palla Se passa un'altra azione Mo scadeno La prorompenza De Dio Wolcott Ma guarda quanto corre Oh mio Dio Cerco il cross Non la chiappa nessuno A momenti vado al tiro Non ce sono riuscito Ma recupero il possesso Della palla Ancora Coutinho Oddio Oddio È uscita veramente De un nulla E va bene Mo se passa un'altra azione Guarda che questo Mi pareggia Aiuto Aiuto Mamma mia Me la so cavata Grazie al portiere Calcio d'angolo Guarda che questo Mi fa qualcosa Ecco Ho buttato via la palla Riparto un contropiede Aubameyang Dai Facce vedere quanto corri Passaggio per Coutinho Voglio il passaggio di ritorno Questa può essere buona Aubameyang Dai Mi serve il gol Del 3 a 1 Immediato Mi fermo Il passaggio Oddio Oddio Eccolo Ce l'ho fatta Dai E così 3 a 1 Mi serviva un altro gol Immediatamente Perché se no Era veramente Brutta come situazione Perché questo nel giro di un attimo Mi poteva fare un altro Gol Quindi Sul risultato di 3 a 1 Sto un po' più tranquillo Ma comunque sempre col culo stretto E facciamo attenzione Oddio E il portiere è solo 75 Ma mi pare che sta a fare la differenza Perché mi sta a fare tutto Calcio d'angolo Questo c'è Porca puttana L'ho bruciato sto portiere Ha fatto la cazzata Ma guarda Parlo più Guarda Che razza decufata Passiamo ancora un'altra azione Perché chi si arrende qua No io non mi posso arrendere certo Osil Fascia destra Taglia col cross De capoccia De capoccia Oddio 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 Meno male che ha fatto una papera pure lui 4 a 2 Che partita ragazzi Tanti gol Tio pisellone Wolcott Quello che corre L'ha buttata dentro de capoccia però Mo sto curioso di rivedere l'azione E questi festeggiano E lasciamo li festeggià Giustamente Eccola qua Chi è questo che se n'ha nato Cross Non l'ho riconosciuto Guarda che roba Ma questo è un gol incredibile Mezzo fortuito eh Però il pulsante l'ho schiacciato Quindi vale E niente È finita 4 a 2 ragazzi Se vi è piaciuto il video Naturalmente Il mi piace È sempre molto importante Commentate Condividete Iscrivetevi al canale 9,6 Obama e Young La vittoria ci porta Ad avere insomma La prima vittoria del draft Quindi aumenta il premio 9 tiri a 6 12 tiri a 9 Non mi resta che dà appuntamento Alla prossima Con un nuovo Video di FIFA 16 Ergabone Ve saluda Bella a tutti Ciao 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 Grazie.